e dai facciamo degli investimenti a medio e lungo termine no non sto raffreddato no poi poi facciamo un piano di ammortamento lo facciamo per dall'assicurazione va bene finito a po' bene vado magari ci sentiamo nel pomeriggio vieni pepino vieni che ti affetti ciao ciao vieni entra pepino vieni entra qua lascia il secchio della macchina sono diventa papide come la pizzeria mi sa vieni qua vieni ma la grande che è successo ho pulito tutto ma è come volerei ma lei piace tranquillo ho capito eh pepino che c'è è una vita che tu lavori con me ti voglio bene come un figlio che è successo? madonna il non mi proponiamo nient'altro che pure qua le viziate vabbè qua è un altro problema quando è venuto il direttore a cercare il direttore della banca me? che io stavo in gabinetto tu che cosa hai detto? ma che cosa dovevo dire? che cosa hai detto? secondo lei cioè lei vuole tutte le cose precise sempre ordinate ho detto la verità lei stava a gabinetto tu hai detto al direttore che? il capo diciamo che sta cacando ma complimenti complimenti che linguaggio no 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 momento l'altra volta le prese con tutte le segretari perché dicono le vg io ho detto la verità ho capito che hai detto la verità allora diciamo che come la fai? la fai sbaglio no signor ma e che cosa come la fai sbaglio? e allora diciamolo allora al direttore di banca non si dice direttore? pepino al direttore di banca non si dice devi rispondere in una maniera più non devi dire nemmeno che sto a gabinetto devi dire che sta parlando con un cliente nel bagno che c'entra il bagno? non devi nominare prova oh come devi dire? che diciamo che il capo sta parlando con un cliente con un cliente? oh tanto ci vuoi? oh vabbè diciamo che però il capo vuoi? si mangia il fagiolo con le cose tutto stamattina se viene qualcuno che mi cerca sai come devi rispondere? come devi dire? che sta parlando con un cliente oh ma come? madonna metto per ora mo? vengo come è tutto questo qui? non è quando ci vuoi camminare a poche così? si ora vai piano io nel momento lei entra cioè almeno va a dire ciao salve salute non ho capito ma io sono già in ritardo a vostra ma è un tempo che mi è nascosto che non ti capisco la parte che significa? però non è che da chi deve andare? riesci a parlando con il direttore che teneva un appuntamento ma un momento non è che sta pensare a lei il capo non ho capito ognuno ha i suoi tempi ma è bene non ho capito che c'è da fare adesso deve aspettare che ha l'appuntamento come aveva l'appuntamento? come? allora mi sono precipitato non ti capisco quante cose non sono fatte per me si mandiamo la casa adesso tu mandiamo la casa perché il mio capo adesso non può ricevere eh perci non può ricevere perci perci per forza così non è che il cristiano andava così alla vendura non ce l'avano sta parlando eh se ne viene il fatto diciamo che il mio capo sta parlando con un altro cliente sta parlando con un altro cliente no è proprio una cosa facendo sono capito ma ne avrà per molto? no molto no proprio di poco ma anche perché mentre andavo già scorreggiavo diciamo non è questo che non è questa la maniera di sprechi sufficina una cristiana ma non c'è più religione non c'è più rispetto per una figura delle persone non c'è più di gente ma non c'è più di gente ma neuda aspettate voi ok capo capo Grazie.